Ciao a tutti, sono il dottor Gronda, vi parlo dalla farmacia Canobbio, in Porta Soprana. Eccoci al nostro appuntamento settimanale. Oggi voglio parlarvi del mal di gola. Tante persone in questo periodo vengono e mi parlano di questo fastidio alla gola, più o meno profondo, che può anche determinare degli abbassamenti di voce. Ma sapete qual è la regola principale per combattere il mal di gola? È mantenere le mucose umide. Mantenere le mucose umide vuol dire bere molta acqua, evitare che le mucose si secchino, quindi possano avere un attrito, quindi possano essere attaccate da agenti atmosferici. Quindi tenendo sempre comunque la nostra gola umida, bevendo spesso dell'acqua. E mi raccomando, lo dico sempre, in questo periodo umidificate le stanze dove soggiornate e soprattutto quelle dove dormite, abbiamo già una buona possibilità di evitare il mal di gola. Poi con l'uso della mascherina è evidente che è sempre più difficile, quindi è sempre più importante bere tantissima acqua. Nel caso però non riusciste ovviamente a combattere in maniera adeguata questa fastidiosissima infiammazione, vi propongo la propoli. La propoli in tintura madre. Si prendono 20-25 gocce, si mettono in due o tre dita d'acqua e si fanno dei gargarismi, dopodiché deglutite. Ecco il vostro rimedio per il mal di gola. Ciao a tutti!